Il progetto è molto interessante perché a parte l'idea di dare spazio all'arte, che è una cosa che sempre più chiaramente succede nel senso che il nostro mondo si sposta sempre di più verso le applicazioni tecnologiche, ma trascura quello che riguarda la cultura, l'arte. Diciamo che da un altro punto di vista mi preoccupa un po' il fatto che dobbiamo intervenire in un luogo già così bello, già pieno di significati, di bellezza insomma e quindi l'intervento è dedicato, presuppone una certa attenzione. Questa presenza della ceramica sia nelle architetture, negli esterni ci sono reticole votive, ci sono altri tipi di testimonianze che vengono dal passato, un filone sul quale innestarsi. chi viene in questi posti ovviamente dovrebbe conoscerne la storia, gli umori che in qualche modo sono presenti, non solo nel paesaggio ma anche appunto come dicevo nelle architetture che sono tipiche in costiera. Lavorare insieme a persone che io conosco come bravi artisti è interessante, nel senso che diciamo si può provare in questo caso ad innestare appunto su questo tessuto resistente delle opere contemporanee. E' abbastanza difficile che si presenti questa occasione di lavorare organicamente diciamo in un esterno, in una situazione così allargata diciamo che investe sia il tessuto diciamo urbano che quello pari artistico. A presto di